Con SEPA è più semplice ad esempio inviare somme in euro a parenti e amici ed effettuare pagamenti in tutti i paesi aderenti all'area SEPA. Si può richiedere l'addebito diretto in conto di utenze e pagamenti da qualsiasi soggetto che emette fattura, sempre all'interno dell'area dei paesi SEPA. Si hanno tempi certi di disponibilità di accredito, di stipendi e di altri versamenti sempre all'interno di quest'area SEPA e diciamo anche una persona che lavora o studia o semplicemente vive in un altro paese dell'area SEPA può utilizzare il proprio conto corrente intrattenuto nel proprio paese di origine per effettuare pagamenti singoli o ricorrenti utilizzando appunto i servizi bonifico SEPA o adebito diretto SEPA. Così anche un cittadino di un paese SEPA che lavora o studia o semplicemente vive in Italia può utilizzare il proprio conto corrente intrattenuto nel proprio paese di origine per effettuare pagamenti singoli o ricorrenti utilizzando sempre anche qui il bonifico SEPA o la credito diretta SEPA. In poche parole insomma il sistema SEPA dovrebbe consentire una semplificazione, una velocizzazione e anche una limitazione dei costi dei pagamenti fra stati.